Ciao, un nuovo video spesa dell'Eurospin. Si è rotto lo scontrino. Comunque abbiamo speso 116,97 quindi 117 euro. Prima volevo farvi vedere delle cose che ho preso. Allora, questo sto gestendo di mattina, l'ho preso ieri pomeriggio a super risparmioso. Ho preso due cosette. Allora ho preso perché cercavo queste bibitoni high protein della Milk Pro. Questi buono per dopo l'allenamento o come snack, come merenda. C'hanno molte proteine. Proteine 10 grammi. Ho preso una onina di cioccolata e li ho trovati lì. Poi ho preso questa salsa l'avvocato con lime e jalapeno della Caldè. E poi c'è un'offerta di 4 salata 1,31 euro che poi adesso per oggi ho preso le orecchiette e faremo le orecchiette col pomodoro e ci tratteremo la ricotta salata. Quindi queste erano piccole cose che ho preso ieri. E cominciamo con quello di oggi. Ho preso questa pianta grassa che costa 2,49 euro che è carinissima. Questo piccolo cactus. Insomma piccolo, abbastanza grande. 2,49 euro. Cercavo di non romperlo. Poi andiamo. Ho preso del latte di soia. Questo dell'amore, amo essere biologico, fiordi natura. Insalata. Questo è quello che mi piace a mio padre, è della lattuga romana. A lui invece questo mi piace con l'imbustata. Quella è della trippa. La trippa che costa 3,87 euro. Ammazza, costa la trippa. Del petto di pollo, del petto di pollo, 4,29 euro. C'è un altro latte di soia. parmigiano, sicuramente c'è qualche altra bustina da qualche altra parte. Le gallette di mio padre che ci fa a colazione, merenda. Queste ricoperte di cioccolata. Del succo energy della blues, gusto limone e sportivi. Passoncini Kingus, 18 pezzi. Poi ho preso, sia per me che per mio padre, queste insalate miste con verdure e quinoa. Questo è facile, veloci. Questa viene 1,99 euro. Alla quinoa. Quinoa e rosmarino. Non potrebbe essere. La voglio provare anch'io. Poi una forcata. Ho voluto prendere questa da mamma, guarda. Torta al cioccolato. Questa l'assaggiamo. Fantasia al cioccolato. Vediamo queste quanto viene. Viene 3,49 euro. Sono 600 grammi. Non è male. Questa la devo provare. Cioè, se veramente è come nella foto, tutta questa cioccolata. Sarà mai come nella foto. Poi ti dirò. Guarda, ho preso. Un po' di ghiaccioli, questi 20 ghiaccioli assortiti. Aspetta, aspetta che ti ho servito pure a te. Mia madre i ghiaccioli non è più golosa. Comunque, 20 ghiaccioli assortiti. Vediamo quanto vengono. 2,99 euro. Quindi 3 euro. Non è male. Poi vabbè. Il salmone per me. Le gallette. Acioccolato. Il padre si è presa una camomilla, così si dà una cammata. Poi il mio padre, dato che è ormai rigido nella sua dieta, si è preso questo dolcificante, con derivati alla stevia, 0 calorie, 40 bustine, che veniva a 99 centesimi. Una scatola di ceci per me, che io non ho più alcuni ghiaccioli di ceci. Loro mangiano i fagioli, io mangio i ceci. Poi queste miste di frutta secca, con un'uvetta. Poi mi sono preso un po' di questi yogurt della Bifidus, latte fermentato con la lactobacilius, vabbè, al mirtillo. Questi vengono. 69 centesimi. Ne ho presi un po'. Ed ecco il gelato e mamma, ho preso il biscotto. Vediamo quanto vengono. Questo viene 2,39 euro. E sono 6 biscotti, va bene? Giudicato? Lei che potrebbe mangiare dolci, però una volta ogni età mi dà un gelato. Non so, tutto quando vedo che c'è un pallido che è basso, ti dà un gelato. Un'altra azzù. Un'altra insalata mista, questa di quinoa. Del meruccio del mio padre, della sua dieta, questo del gelato. Cipolle. Parmigiano. Poi ho preso questa energy drink per me. Abbiamo un po' una scarica, una carica. Tricottine, tonno. Mia madre sta reclamando franzo, adesso mi devo sbrigare. Poi, poi. Ho preso questi peperoni frigidelli che mi escivano a Marte. Mamma, gli piacciono, vero? Frigidelli. Del radicchio per me. Questo lo voglio fare grigliato. Quindi facciamo sempre delle verdure grigliate, zucchine, melanzane al forno. E ci voglio mettere vicino anche il radicchio. Un altro chiletto di salmone. Un altro yogurt. Un altro chiletto di pollo. La carta igienica, questa soft dream. Lunghissima, in due vedi. Mela soft. Melanzane e zucchine. Noi siamo diporatori. C'è più posto qua. Altra insalata. lattuga romana. Patate dolci che è colluttorio. Non dico che prezzi di tutto tanto. Un altro misto di tutta secca. E poi un meloncino. Questi vedi sono carinissimi. Vediamo questo se trova quanto costa. Dunque, i melanzane in euro, 1,72 euro. Le zucchine 1,46 euro. Il radicchio è 1,86 euro. Questo dove sta? Un guria baby, 2,04 euro. 2,04 euro a un guria baby. Sì, mille. Cerco di non farla casca. L'ultimo sacchetto di spesa. Vabbè, gallette. Mio padre sta piantando il basilico. Poi questi hamburger di melanzane e pomodori secchi che ci sono piaciuti. La schiuma da barba. Altra lattina piena di energy drink. Gallette. tutto il bibitone. Il boss si è dato quindi tocca la metà pasta tutto a me. Poi degli hamburger. stessi venivano. Hamburger 1,99 euro. Di bovino. Beveno tutto. Scottona. Questi li congeliamo. Un'altra zuppetta. La prensana proprio. Hai voluto prendere questi straccetti che mi mangio stasera. Di soia e ricetta vegetariana. Questi venivano. Vengono. Un euro e sessi. Un euro e 99. Questi li voglio provare. Straccetti soia e ricetta vegetariana. Fonte di proteine, fonte di ferro e vitamina B. Questi li voglio provare. Oh mio. Vengono gli gnocchi. Un altro misto. Delle orecchiette. Vengono le orecchiette a pranzo? Vengono le orecchiette. Vengono le orecchiette a pranzo? Vengono le orecchiette. Vengono le orecchiette a 1,99 euro. Ora voglio provare queste bocconcini di bacon e provola. Ma io vuole il dolce. Dopo prima la pasta, poi il dolce. Ma è già stato tutto molto. Poi il caffè. Come la maria. Poi il pomodoro e la ricotta salata sopra. Non lo hai mangiato. E la fanno in Puglia. Le zuppe legumi e cereali. Un'altra zuppetta con i cereali. tonno, altri misto, delle banane che mi stanno scappando di mano, oppure mezze schiacciate. Ok, della crescenza, del suo scontrino sotterrato. Questi sono 320 grammi. Altre orecchiette che ho voluto prendere per me, per tanto il basso non c'è, questa che sono fissa per le creme corpo. Latte corpo, rinfrescante menta, e questa crema per le mani ad olio d'argano. Me lo mettono lo zaino e me la porterò sempre dietro. E niente, il video spesa finita. Sono quasi mezzogiorno, noi ci abbiamo fame, adesso preparo il pranzo di mia madre, di fatto Bola sta ancora a fare giardinaggio. Come si va? Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Puoi salutare? Beh, di ciao. Di ciao. Ciao!